Ciao ragazzi, sono Arti, bentornati su Megawall! La nostra Barbara ci sta viziando con le novità lindose di questo settembre! Oggi avremo a che fare con le LOL GK! Oh, ops! Forse doveva essere una sorpresa! Vendito la Barbara! Lasciate un like per farci sentire il vostro affetto! Vai Barbara! Ah, che bello! Sta per ricominciare la scuola! Ci saranno delle nuove regole, però... Cioè, ho le farfalle nello stomaco! Aiuto, sto in ansia! Vediamo Neon, cosa ne pensa? Ehi, Neon! Pronta per domani? Oh, ciao! Guarda, io sto bene, mi sto preparando psicologicamente, sono un pochino agitata però! Ho un po' d'ansia! Non dirlo a me! Parlando di altro, cosa stai facendo di bello? Ah, guarda! Stavo disegnando, ho fatto un bello arcobaleno perché domani dovrebbe andare proprio tutto bene! E poi stavo giocando un pochino con le LOL, insomma, le cose che mi piace di più fare! E guarda! Uh, sta arrivando Quimby! Ciao ragazze, come va? Bene! Io sono andata a fare shopping! E che cosa hai comprato di bello? Il mio nuovo diario! A vedere? Lo volete vedere? Sì! È bellissimo! Cosa hai preso? Ho preso questo con il gatto corno, l'arcobaleno, i diamanti e tutto rosa! Oh! Bello, bellissimo, bello, bello, bello! Stupendo! Stupendo! D'altronde ragazze, stiamo per andare in prima media, ci voleva qualcosa di speciale! Ehi ma guardate, sta arrivando Diva! Eccola! Ciao ragazze, come state? Bene, bene, stavamo guardando il mio diario! Fammi vedere! Ecco questa rosa con il gatto corno! Cosa succede? Ma sei pazza? Perché? Cioè, stiamo andando in prima media, noi dobbiamo diventare grandi, in prima media sono tutti grandi e cosa? È da bambini piccoli utilizzare il diario con gli unicorni! Cosa? A me sembrava carino! No, 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 cambialo subito, sai perché? Perché? Poi i bulli se ti vedono con questo diario, poi ti prendono in giro! Oh no, io ho paura dei bulli! Esatto, e poi ti dicono che da bambini piccoli il diario è con il gatto corno! E quindi, cosa dobbiamo fare? C'è solo una cosa da fare! Cosa? Dobbiamo crescere, dobbiamo diventare grandi! E come? Trasformandoci! E? Dobbiamo cambiare look e vestirci da grandi! Basta gattini! Ma è un gatto corno! Vabbè, quelli e soprattutto basta giocattoli! Oh no! È terribile! Dobbiamo! E vabbè, se l'alternativa è i bulli, io non voglio essere bullizzata! Va bene, cambiamo, è ora di crescere ragazze! Esatto! Vabbè, magari a casa lo userò come il diario segreto! Ciao disegno! E ciao giocattoli! Ve li do io i nostri nuovi giocattoli! E quali sarebbero? Trucchi! Ah! Dopo ore di parlotto, decine di vestiti provati, tacchi vertiginosi... Le ragazze erano pronte per la prima media! Ah, però è un po' difficile camminare con questi tacconi! Curbona, è per questo che abbiamo i più cristalli! Ah, ecco il motivo! Che dite? Andiamo bene? Come sto? Daddio! Delle ragazze nuove! Sì, siamo proprio stilose! Le più cool! Le più fashion! Esatto! Ultima per il diario! Nero! Ma è lo zaino? Nero! Quindi pure l'astuccio immagino! Nero! Ah, ecco! Ok! E vabbè! Ragazze, doveva succedere prima o poi! Saremo cresciute, saremo diventate grandi! E quindi, ecco, è arrivato il giorno! Ecco, basta cose da bambine, soprattutto, basta giocattoli, basta... Ma no! Come ma no? Ma io intendevo a scuola! Ah, e quindi? Quindi, dopo la scuola magari possiamo organizzare un pigiama party! Sì! Ci mangiamo la pizza! Sì! Parliamo fino alle tre di notte! Evviva! E giochiamo con le LOL! Ah, meno male! Sì! No, perché onestamente mi stava prendendo un colpo! Ragazze, crescere è bello, però bisogna continuare a coltivare le nostre passioni! Giusto, mi pare veramente una cosa saggia! Ad esempio, la mia passione è guardare i video su Mega Wow! Ma guarda che noi adesso siamo su Mega Wow! Ciao, Effi! Ciao, amici di Mega Wow! Ciao, ciao a tutti! Un bacione! Eh, volevamo soltanto dirvi una cosa! Buona scuola! Non abbiate paura di crescere! E soprattutto fatevi tanti amici! E quando tornate a casa, divertitevi! Con noi o guardando i video di Mega Wow! Ciao ragazzi! Buona scuola! Spero che il video vi sia piaciuto! A me un sacchissimo! Ci vediamo domani con un nuovo video! Ciao!